Allora dicevamo Nicolas Flamel In questa prima parte parleremo del Nicolas Flamel che abbiamo conosciuto in Harry Potter e la pietra filosofale In piccolissima parte in Animali Fantastici e poi facendo anche un raffronto con il Nicolas Flamel reale e tutta la leggenda legata al Nicolas Flamel alchimista Il Nicolas Flamel dell'universo letterario e cinematografico di Harry Potter nacque nel 1327 e morì nel 1992 Fu un mago e un alchimista francese famoso per l'invenzione della pietra filosofale in grado di trasformare ogni metallo in oro E dalla quale era possibile ottenere l'elisir di lunga vita del quale usufruì insieme alla moglie Perenelle Nicolas Flamel fu amico e collega di Albus Silente L'alchimista grazie all'elisir di lunga vita morì a 665 anni e sua moglie Perenelle arrivò ai 658 anni di età Andando ad indagare un po' più a fondo nella vita del Nicolas Flamel Potteriano Sappiamo che frequentò Bobatons la scuola della magia francese dove conobbe appunto la moglie, la futura moglie Perenelle durante il percorso di studi Si dice che Flamel anni dopo finanziò sia il castello sia i giardini circostanti Atto che portò alla costruzione di una fontana in memoria sua e della moglie E' riconosciuto quale alchimista di grande talento e amante dell'opera Si dice che abbia passato gli ultimi anni della sua vita nel Devon E sebbene sia chiaro abbia usato la pietra filosofale per le sue portentose proprietà per allungare la vita Ci sono dei dubbi sul fatto che l'abbia utilizzata in realtà per arricchirsi Il potenziale pericolo della pietra appare chiaro quando Lord Voldemort controllando Raptor Ha quasi ottenuto la pietra stessa per tornare in vita Piano sventato grazie all'intervento di Harry Potter, Hermione Granger e Ronald Weasley Dopo questo episodio Flamel di comune accordo con Albus Silente decise di distruggere la pietra Trattenne un po' di Elisir per sistemare gli ultimi affari E presumibilmente morì qualche tempo dopo insieme alla moglie per Enel Piccola curiosità Nicolas Flamel è menzionato nella figurina di Albus Silente del famoso dolcetto Cioccorane E adesso pian piano che andremo avanti spero con la saga di Animali Fantastici E' altamente probabile che scopriremo qualcosa in più del Nicolas Flamel potteriano appunto Per quel che riguarda il vero Nicolas Flamel sappiamo che nacque a Pontois nel 1330 E morì a Parigi il 22 marzo 1418 E fu realmente un alchimista francese Visse in Francia a cavallo tra il XIV e il XV secolo Condusse due negozi come scrivano E ad un certo punto sposò una donna di nome Perenel Che era più grande di lui Vedova e con un grande patrimonio Che morì nel 1397 I due erano soliti fare molte donazioni alla chiesa Ed erano altresì soliti commissionare diverse sculture Una delle abitazioni appartenute a Flamel E' ancora esistente Si trova al 51 di Rue de Montmorency Ed è considerata la più antica casa in pietra di Parigi Sempre a Parigi nei pressi del Louvre Gli è stata dedicata una strada Ovvero la Rue Nicolas Flamel Che si intersega con la Rue Perenel Strada dedicata alla moglie dell'alchimista Nel 1410 Flamel progettò la sua pietra tombale Scolpita con immagini di Cristo e di San Pietro e Paolo Ed è attualmente conservata nel Museo Nazionale del Medioevo Sito nell'Hotel des Clanniers a Parigi Flamel contribuì al restauro del vecchio cimitero Degli innocenti di Parigi Contribuì alla realizzazione di strutture Di strutture arcate poste sopra le murate Al fine di contenere le ossa dei cadaveri in eccesso Il suo testamento Datato 22 novembre 1416 Evidenzia una vita agiata Ma non la spropositata ricchezza della quale si è speculato Che si speculava che avesse ottenuto appunto grazie all'alchimia Al di là dei testi apocrifi Non si hanno testimonianze concrete di un Nicolas Flamel Impegnato in alchimia, farmacia o medicina Flamel fu sepolto nel 1418 Nella chiesa di Saint Jacques della Boucherie Scusate E la sua lapide fu installata su un pilastro Sotto un'immagine raffigurante la Vergine Maria La struttura ecclesiastica fu purtroppo distrutta nel 1797 Durante il periodo rivoluzionario Ma fortunatamente almeno la pietra d'omballe fu salvata Fu conservata e successivamente acquistata da un antiquario E come detto è attualmente esposta al museo de Clanny Leggenda vuole che questo antiquario trovò La lapide nella casa di una fruttivendola Che la utilizzava come ripiano per la pulizia degli spinaci E questa era la storia del vero Nicolas Flamel Ma non c'è ancora una parte di storia Ma c'è ancora una parte di storia che va raccontata Che ci interessa Ovvero tutto il mito legato al vero Nicolas Flamel Impegnato in alchimia In questo senso possiamo dire che questa leggenda Prese forma da un libro pubblicato nel XVII secolo Quindi almeno un secolo dopo la morte di Nicolas Flamel Questo libro è intitolato Le livre des figures hieroglyphiques Ovvero libro delle figure hieroglyphiche Pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1612 Un altro libro importante che dobbiamo tenere a mente L'esposizione delle figure hieroglyphiche Pubblicato per la prima volta a Londra nel 1624 Sono due volumi definibili quali Collezioni di disegni per un timpano del cimitero degli innocenti Ovvero il cimitero degli innocenti E sembrano essere stati recuperati dopo una lunga scomparsa Nell'introduzione l'editore descrive gli sforzi di Flamel Per decifrare un libretto di 21 pagine Acquisito grazie a un sogno dove un angelo gli mostrava il volumetto Nel 1378 Flamel si sarebbe recato in Spagna Per cercare aiuto nella interpretazione del testo E si dice che durante il viaggio di ritorno Avesse incontrato un sapiente Che riconobbe nel piccolo volume Una copia del Grimorio intitolato La magia sacra di Abramelin il mago Da qui in poi si è detto che Nicolas e Perenelle Grazie anche allo studio di testi caplistici Sarebbero riusciti a decifrare il testo del volumetto E da qui avrebbero creato la pietra filosofale Dalla quale ha ottenuto l'elisir di lunga vita Vivendo più a lungo insieme alla moglie E considerando anche le capacità della pietra Nel trasformare il metallo in oro Nicolas e Perenelle avrebbero ottenuto ricchezze importanti Allora mi era parso di vedere un commento Vabbè stupenda questa storia Sì devo dire di sì Ma andando ancora avanti così la concludiamo Questa storia fu contestata dall'abbate Etienne François Villan nel 1761 Il quale sosteneva che la storia fosse un'invenzione Dell'editore dell'opera Ovvero P. Ornald P. Ornald della Chevalier Che si sarebbe nascosto sotto lo pseudonimo di Eiranaueus Ornaldus Ma la storia di flamella alchimista Era ormai ben radicata nell'immaginario collettivo E tantissimi altri autori Avevano scritto a loro volta Altre informazioni e nuovi dettagli Su questo personaggio Alchimista E così Gli esempi più importanti del flamella alchimista Li abbiamo per esempio negli scritti di Isaac Newton Il quale menziona i dragoni di flamel Uno alato Un altro no E lo descriveva come noto Per avere interessi alchemici E nel diciannovesimo secolo Vittor Hugo Menziona flamel nell'opera Notre Dame de Paris E Albert Pike lo nomina in Morals and Dogma of the Scottish Rite of Frimasorri Ovvero Morali e Dogma del rito scozzese di Frimasorri Viene citato come figura ispiratrice Da André Breton Nel secondo manifesto surrealista E anche in tempi recenti Flamel è spesso citato Come abbiamo già detto Nel riportere la pietra filosofale E ha un ruolo importante Diciamo meglio Un ruolo dove appare di persona Appunto in Animali Fantastici 2 I crimini di Grindelwald Dove lo vediamo appunto Apparire di persona sullo schermo E questo per adesso è tutto Quello che sappiamo su Nicolas Flamel Sia reale che fantasioso E voi che ne pensate? Ecco personalmente posso dirvi Che Flamel è un personaggio Che mi ha sempre incuriosito parecchio Comunque A tal punto che Considerate che spesso Quando vado in libreria Mi capita di vedere questi libri A firma di Nicolas Flamel E dedicati interamente All'alchimia E ogni tanto me lo guardo Insomma dico Ah me lo prendo Me lo prendo Me lo prendo Però insomma ecco Però ecco Diciamo che appunto Dopo sei secoli Comunque dalla sua reale morte Che appunto abbiamo detto Essere il quindicesimo secolo Comunque appunto Dopo oltre 600 anni Comunque ancora ben radicato Nell'immaginario collettivo E molte persone ancora Tendono a scrivere su di lui Voi che ne pensate?